E se questo cattivo odore nascondesse qualcosa di più? Lavando a 30 gradi i residui di fibre detersivo non vengono eliminati del tutto causando il cattivo odore. La soluzione? Calgon 2 in 1. È imbattibile contro il calcare e previene lo sporco già a 30 gradi. Aggiungilo ad ogni lavaggio.